Ben trovati alla nuova puntata del Salotto Canarino, siamo ospiti ancora di Pana e Caffè Luciani, pizzeria, caffetteria, aperitivi, sito a fermo in Viale Trieste, esattamente all'interno del complesso coperto Sagrini. Ospiti di questa puntata del Salotto Canarino, come vedete alla mia destra i due allenatori della Fermana, Fabio Scoponi e Matteo Mercuri, alla mia sinistra invece il giovane Alberto Scarfini che è uno dei soci fondatori e attualmente membro del direttivo protempore della nuova associazione di tifosi Solo Fermana che sta cercando di aiutare la Fermana e prende l'eredità di vecchie organizzazioni di tifosi che esistevano molti anni fa. Cominciamo subito con i due allenatori, la partita di domenica scorsa a Civitanova, Fermana reduce da un buon pareggio per 0-0 contro la Civitanovese che la fa salire in classifica a 36 punti, esattamente ora la Fermana sale dall'undicesimo all'ottavo posto grazie alle contestuali sconfitte del Sulmona Agiesi che è scesa praticamente a 36 punti quindi è stata agganciata dalla Fermana e del Celano che ha perso in casa con il Termoli. Grazie a queste due sconfitte la Fermana con questo punto fa un piccolo passo verso la salvezza che comunque è ancora lontana perché dovrebbero servire 42-43 punti però considerando che mancano sette partite alla fine compresa la prossima quella in casa con l'Agnonese e l'attuale gestione tecnica della Fermana sta viaggiando con una media di circa 1,8 punti a partita tutto lascia presupporre che salvo catastrofi la Fermana dovrebbe riuscire a raggiungere la quota salvezza e l'obiettivo è cercare di farlo prima possibile per poter giocare con tranquillità le ultime gare e poi lanciare qualche giovane e divertirsi un po' qualche tifoso più ottimista addirittura parla di possibilità ancora di raggiungere la quinta posizione c'è la griglia playoff ma per questo ancora prematuro aspettiamo la partita di domenica prossima. Allora mister Fabio Scoponi con la Civitanovese un buon pareggio 0-0 anche se abbiamo visto finalmente una Fermana intraprendente in tutto il primo tempo ha praticamente dominato la partita un paio di volte ha cercato di andare a rete e se non fosse stato per la chiusura degli ottimi difensori centrali forse ci sarebbe anche riuscita poi nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata e alla fine le squadre hanno dato l'impressione magari non sarà così però hanno dato l'impressione di accontentarsi dallo 0-0 anche perché visti i risultati che arrivavano dagli altri campi la Fermana come detto con questo pareggio sale dall'undicesimo all'ottavo o nono posto dico ottavo o nono perché Fermana e Civitanovese sono a 36 punti sono in parità perfetta anche di differenza reti più 6 però in questo momento questo non importa. Allora mister? Sì ovviamente abbiamo fatto un'ottima gara soprattutto nel primo tempo dove noi abbiamo tenuto bene il campo e secondo il mio punto di vista meritavamo qualche cosa in più. l'unica cosa che secondo me è mancato è mancato un pizzino di cattiveria in più proprio per portare a casa l'intera posta però d'altro campo abbiamo giocato contro un avversario che io sinceramente non mi aspettavo che ci affrontasse in quel sistema quindi solo ed esclusivamente nel reparto difensivo ci hanno aspettato per fare questo tipo di partita quindi è chiaro che con il passare del tempo la stanchezza si è fatta sentire tutto quanto e alla fine il punto te lo tieni stretto perché serve per la classifica. Allora una Fermana completamente rivitalizzata anche la partita con l'Agnonese e la squadra giallo-blu con l'angolana aveva dimostrato notevole forza soprattutto caratteriale nel secondo tempo perché è riuscito a rimontare pur avendo un uomo in meno. A Civitanova con una squadra complessivamente più quotata dell'Arena Tucuri angolana anche se il reparto migliore in effetti è sembrato la difesa comunque con una squadra comunque nel complesso più quotata la Fermana nel primo tempo ha dominato il centrocampo ed è andata più volte fino all'area di rigore della squadra rosso-blu mentre i padroni di casa si sono fatti pericolosi qualche volta in contropiede soprattutto nel secondo tempo. Facciamo rispondere a Matteo. Sì io credo che alla fine anche la partita contro l'Arena Tucuri si era vista una Fermana con una certa forza. Peccato averla giocata in dieci perché non siamo riusciti a esprimerci come volevamo. L'abbiamo fatto domenica purtroppo contro una squadra che nel primo tempo e anche in buona parte il secondo si è difesa con 11 persone in torna di una palla non è stato semplice e in quel paio di circostanze tre che abbiamo avuto un pizzico come diceva il ministro un pizzico di gattiveria un pizzico di precisione in più sarebbe servito per portarla fondamentalmente è portarla a casa perché passare in vantaggio secondo me significava vincere la partita. Tu mister Fabio Scoponi qualche settimana fa hai detto questa Fermana deve ancora crescere quindi al di là delle novità tecniche e la novità più importante che abbiamo visto in queste ultime partite è l'esordio di Ragazzo come titolare al centro dell'attacco e direi che un ottimo esordio perché un giocatore che mi sembra che faccia reparto da solo scala al centro campo fa un grande lavoro e si rende anche pericoloso abbiamo visto anche l'esordio di Daniele Frucci esordio da titolare a Civitanova e qualche minuto nel finale nella partita precedente con l'angolana due ottimi giocatori di capacità di qualità tecniche e anche di grande impegno personale tu dicevi questa squadra deve crescere oltre che a queste novità tecniche che ormai sono queste perché non ci sono più novità nella rosa c'è stato un grosso lavoro dal punto di vista caratteriale e mentale da parte vostra sui giocatori che ha fatto ha consentito la squadra insomma di avere un'impostazione in campo completamente diversa rispetto a qualche mese fa sì certamente il primo lavoro che dovevamo fare noi altri da quando c'è stata la gestione della squadra era quello di lavorare sulle teste dei giocatori perché bisognava portare fuori quel qualcosa in più che serviva perché altrimenti lontano non si andava e di conseguenza piano piano abbiamo cercato di lavorare su questa linea qui e i risultati fino adesso grazie a dio ci danno ragione quindi noi siamo contenti è anche vero quel discorso che ha detto che chi si inserisce su questa squadra e questo per me la realtà ed è la cosa più importante fanno bene perché si è inserito ragazzo e ha giocato bene si è inserito frussi domenica ha giocato bene quindi vuol dire che tutti quanti noi li teniamo nella stessa considerazione al momento giusto chi tocca tocca ci danno tutti quanti e non scorderei che noi altri abbiamo fatto deputare anche un ragazzo che veniva dalla junior se no prima allievi anno scorso il 96 Gregorini quindi Gregorelli scusate quindi di conseguenza è tutto importante per questo tipo di linea è anche vero che il discorso che facevo a suo tempo per trovare un'organizzazione di gioco veramente di gioco che possa venire fuori ci vuole tempo neanche ci vuole una cosa così ora se siamo chiamati per centrare un obiettivo è chiaro che io bisogna che vado anche a discapito di questo tipo di concetto perché a noi altri che quello che ci serve ci servono i punti quindi di conseguenza bisogna che lavoriamo sotto questo aspetto qui senza tralasciare l'organizzazione l'aspetto tattico che continuamente portiamo avanti e quindi io sto vedendo che delle cose che magari all'inizio non venivano adesso stanno anche venendo quindi è il frutto di un lavoro diciamo che non finisce mai per noi ma è giusto anche così è una fermana che ha margini di crescita ancora maggiori si dice che il reparto nevralgico di ogni squadra sia il centrocampo e la fermana i grossi problemi che aveva fino a qualche mese fa li aveva per il centrocampo ora a Civitanova abbiamo visto Marinucci Palermo ancora in ripresa lo stesso con l'Angolana rispetto al periodo sfortunato che ha avuto ma soprattutto ha impressionato tutti quanti un Marcolini che ha giocato a tutto campo spesso anche fino in attacco per quasi tutta la partita anche questo un giocatore molto d'utile tra l'altro Reganati me lo ricordo che ha giocato come difensore centrale ha giunto e ha giocato benissimo ieri lo vedevamo spaziare dalla difesa fino all'attacco quindi un jolly che è praticamente stiamo scoprendo da qualche settimana si diciamo che già partendo dalla partita di fine ottobre a a pescare contro l'ernato curio è un ragazzo che abbiamo piazzato davanti la difesa ha risposto bene in quell'occasione ha continuato a rispondere bene alle nostre sollecitazioni durante tutto questo periodo domenica l'abbiamo spostato abbiamo fatto giocare Giorgio davanti la difesa preferendo magari anche un po' più di qualità sicuramente è un reparto in cui possiamo contare su Marinucci Palermo su Misin su Marcolini su Forò è un reparto dove hai un po' tutte le caratteristiche tecniche tattiche condizionali che ti possono portare ad avere veramente un centrocampo forte tra i tanti giocatori non dimentichiamo anche l'under Antonio Romano che ha giocato pochissimi spezzoni di partita però in quelle poche volte ha dato sempre il suo ricordiamo ha fatto un gol alla macerata ne ha provocato un affano perché suo e le crosse con cui poi Marinucci Palermo ha fatto il gol e forse avrà fatto anche altre cose che adesso non ricordo però già per un giocatore che praticamente è una riserva fissa gioca a spezzoni di partita anche Romano è un under tra l'altro quindi tutti quanti danno diciamo il loro apporto alla causa ovviamente tutte queste parti bisognava poi inserirle bene dentro un po' come una ricetta quando uno ha tutti i componenti bisogna saperli mescolare bene insieme. Un'altra nota molto positiva sono tutti questi giovani che fatti esordire in difesa soprattutto tutti questi terzini Gregonelli è l'ultimo poi in precedenza Vallorani tutti presi dalla Juniors settore giovanile locale qui del territorio Gregonelli è del Fermano e di Porto San Giorgio Vallorani è di San Benedetto poi c'è Davide Marini che è del Terramano possiamo ritenerlo un giovane locale e Mauro non è locale perché è pugliese però anche lui un ottimo terzino quando gioca fa vedere la sua parte a Termoli in una partita direi quasi disastrosa la nota più positiva è stata l'ottima partita di Mauro che ha spinto diciamo sulla fascia insieme a Paris fino alla fine. Sì sì ma è un reparto che è stato fondamentalmente cambiato negli ultimi mesi Vallorani Gregonelli fondamentalmente erano ragazzi che erano comunque già in rosa al di là di Gregonelli che magari non ci aspettavamo neanche noi che potesse avere questo tipo di risultato sul Vallorani facevamo grande affidamento come lo facciamo anche su qualcun altro insomma sicuramente poi con Mauro e Marini abbiamo trovato un certo tipo di equilibrio che ci ha garantito secondo me dei buoni risultati nel corso degli ultimi due mesi. Poi direi che anche la coppia dei difensori centrali che all'inizio della stagione dava molti brividi si è assestata bene anche lo stesso Labriola che è sembrato avere bisogno di qualche mese prima di assestarsi bene adesso insomma lo vedo attento non ha commesso più nessun errore così anche Marini l'inserimento di Frucci è un giocatore di qualità adesso mi sembra si è stato recuperato anche Savini dopo l'infortunio quindi insomma anche la parte centrale della difesa dove serve più esperienza ora mi sembra più attenta non ho più visto grandi errori come li abbiamo visti fino a un paio di mesi fa. Sì indubbiamente l'attenzione è al massimo quello che richiediamo in continuazione noi altri vorrei precisare una cosa però che tutti questi discorsi che noi adesso stiamo facendo sono tutti importanti e ci fa onore per tutti questi ma io vorrei ritornare ancora sull'argomento che è il nostro obiettivo qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è la salvezza e fino a questo momento ancora noi altri non è che siamo fuori da questo punteggio quindi penso che sia importante rimanere ancora noi altri con i piedi ben salti a terra e cantare gioia si dice così? O Vittorio, quando abbiamo raggiunto l'obiettivo questo secondo il mio punto di vista è la cosa più importante perché se ci sprechiamo adesso in elogi che ancora non abbiamo ottenuto niente forse ci concentriamo poco su quello che è veramente il nostro obiettivo. Sicuramente molto bene ci piace il mister Scoponi perché appunto dice di stare sul pezzo e fino a che non si raggiunge l'obiettivo non bisogna distrarsi. Per quanto riguarda la quota salvezza rischia di essere un po' altina dovrebbero servire 42-43 punti. Io ho visto il calendario c'è la Reganatese che ha un calendario leggermente favorevole potrebbe tirarsi fuori mentre invece rischia grosso il Sulmona di essere risucchiato in zona play-out perché il Sulmona nelle ultime otto partite ha fatto quattro punti ad eccezione della partita col Boiano quindi mezzo punto a partita. Continuando così il Sulmona rischia di fare fatica di superare i 40 punti mentre ho visto che la Reganatese e il Fano potrebbero superare i 40 punti per il calendario che hanno e anche perché sono squadre un po' più dotate tecnicamente. Per quanto riguarda l'Agnonese che è la sest'ultima attualmente in classifica la prossima avversaria della Fermana c'è una particolarità. L'Agnonese su 33 punti fatti in campionato praticamente ne ha fatti 28 in casa e 5 fuori ma se consideriamo che di questi 5-3 li ha fatti a Boiano praticamente fuori casa l'Agnonese ha fatto 2 punti soltanto, 2 pareggi poi 10 sconfitte e nessuna vittoria e quindi i punti li ha fatti soltanto tra le Muramiche al Civitelle mi pare si chiama il campo di Agnone. È una squadra che fuori casa quindi alla fine a parte Boiano insomma negli unici due pareggi poi li ha fatti a Di Sernia e Sulmona un pareggio in inizio campionato e l'altro poche settimane fa. Nonostante questo un avversario da non sottovalutare perché è facile che affermo insomma magari il rivi chiuso, coperto e poi la Fermana sappiamo che ha qualche difficoltà insomma alla fine a bucare la difesa avversaria. Per noi è una finale, è una finale perché vincere significherebbe quasi chiudere ogni tipo di discorso salvezzo. Credo che per loro sia il discorso simile, facciano lo stesso discorso insomma quindi sarà una partita da giocare col coltello tra i denti, con tutto quello che servirà per fare in modo di chiudere quasi definitivamente i giochi e provare a fare qualcosa di meglio nelle ultime giornate, lanciare qualche giovane o provare a fare qualche risultato importante perché abbiamo anche qualche scontro importante, qualche derby, dare qualche gioia ai tifosi che domenica ci hanno sostenuto, sono tornati a sostenerci in maniera importante e che chiediamo a gran voce che domenica prossima possano farlo e possono essere il dodicesimo uomo in campo in questo delicatissimo incontro. Infatti alcuni tifosi hanno scritto sì va bene Civitanova, era un derby, bisognava fare bella figura però ora bisogna andare al campo anche con l'Agnonese, anche se è un avversario semisconosciuto come l'Angolana perché abbiamo visto con l'Angolana che era una partita pur importantissima e cruciale c'era poco pubblico, il presidente Vecchiora si è lamentato, in parte ha le sue ragioni certo però l'avversario non attrae come non attrae nemmeno l'Agnonese che la Fermana incontra per la prima volta nella storia perché ovviamente le storie di entrambe le società sono ben diverse però nonostante questo i tifosi devono pensare di incontrare l'Ancona domenica prossima. Sì, il discorso è questo, è quello che ha fatto Matteo, non sarà una partita facile perché non ci sono partite facili, quindi sì ma a questo punto del campionato siccome si stanno giocando tutti quanti l'obiettivo della salvezza, questi vengono su per fare la partita quindi loro perdere una partita in più di tutte quelle che ha perso fuori casa che cosa gli dice? Niente, quindi verranno su per giocarsela a viso aperto la partita, quindi non è facile la partita è molto difficile e per questo intanto tengo a ringraziare come ha fatto Matteo i tifosi per domenica perché secondo il mio punto di vista ne erano tanti, veramente tanti, si sono sentiti e spero veramente con tutto il cuore che domenica ci diano questa grossa mano perché noi ce ne abbiamo proprio bisogno. Allora, tifosi e qui ne abbiamo uno, Alberto Scarfini che è uno dei soci fondatori del direttivo della nuova associazione Solo Fermana di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione Allora, a Scarfini era a Civitanova, immagino, a Polisportivo allora, un gran tifo, la Fermana sembrava giocare in casa anche perché sotto la tribuna coperta il tifo rimbombava di più però questo insomma è un bene comunque i tifosi della Fermana erano tantissimi, quasi 500 per una trasferta vicina, un derby che non si giocava da tanti anni e insomma, ripeto, la tifoseria Fermana ha fatto un'ottima figura Siamo felici di questo e penso che il pubblico Fermano abbia risposto alla grande domenica però come dicono i due allenatori ogni partita vale tre punti quindi domenica è un motivo in più per essere allo stadio perché è fondamentale vincere domenica come erano fondamentali i punti di Civitanova Paolo, a Civitanova effettivamente si è detto questo a Civitanova bisogna dire che il pubblico ha risposto alla grandissima le due cifre spero siano esatte sicuramente quindi non è poco, non è assolutamente poco e poi un tifo incessante dall'inizio alla fine per questi colori che sono la nostra passione quindi siamo contenti Poi abbiamo visto che c'è stato anche un problema nella tifoseria della Civitanovese i tifosi si sono menati tra di loro non sappiamo bene il motivo la società Rosso Blu ha dei problemi ci sono state le dimissioni del direttore generale Bresciani che sembrano rientrate tra ieri sera e oggi vedremo comunque sicuramente la stabilità societaria che alla Fermana ha portato il presidente Vecchiola da quest'anno non ce l'ha nessuno e ce la possono davvero invidiare tutti quanti penso che a parte Ancona, Maceratese, Materica e Fermana le altre debbano stare tutte quante un po' su chi vive dal punto di vista societario Allora mister, tu dicevi a Agnonese che verrà fermo a viso aperto a giocarsela, non farà barricate anche perché non ha nulla da perdere vedremo una Fermana subito arrembante oppure studierà l'avversario? Sicuramente quella che vedremo di Fermana è una Fermana avvelenata con gli occhi pieni di sangue che sono avvelenati e vanno in campo per vincere questa gara come? Con tutti i mezzi possibili, questo è sicuro Fermana che si trova a tre punti dai play-out e la squadra più alta nella griglia play-out è proprio l'Agnonese a 33 punti, poi c'è il Celano sopra a 35, il Fano a 35 Fano che con la cura di Gianluca De Angelis, ex allenatore della Fermana ha fatto un bel po' di punti e si è tirato fuori da una situazione che era problematica e poi a 36 appunto Sulmona, Fermana e Civitanovese però il Sulmona è un po' in calo, come abbiamo detto ha fatto 4 punti nelle ultime 8 partite, ha escluso la partita col Boiano Fermana in ripresa, Civitanovese in fase stazionaria anche se leggermente in calo rispetto al girone di andata ricordiamo che tra fine settembre e ottobre la Civitanovese rintesta la classifica prima in gradutoria davanti addirittura all'Ancona poi alla fine i valori vengono fuori La Fermana quindi si trova a tre punti dai play-out tra la Fermana e gli stessi spregi ci sono tre squadre praticamente cioè Celano, Fano e Civitanovese anche se con Civitanovese come abbiamo detto c'è parità assoluta perché gli scontri diretti sono entrambi 0-0 e anche la differenza reti generale è per entrambe più 6 quindi parità assoluta fra due squadre anche se secondo me il valore tecnico in questo momento delle formazioni non è uguale la Fermana è un pelo superiore, lo abbiamo visto domenica la Civitanovese ha il suo reparto migliore e la difesa soprattutto i due difensori centrali, Comotto e Diamanti sono due esperti e molto bravi poi c'è anche Scandurra che per fortuna la Fermana domenica non ha giocato per squalifica domenica la Fermana con l'Agnonese dovrebbe essere al completo ci sono squalifiche o infortuni squalifiche a parte Marini che sconta la seconda mi sembra non c'è nessuno e poi infortunati come siamo messi con Bartolini ad esempio dobbiamo recuperare un attimo Marini, Ucce, Palermo e Zivkov ma contiamo che già domani tornino praticamente in gruppo Bartolini ha ancora qualche problema vediamo se riusciamo a recuperarlo per domenica mancherà soltanto Marini che sconta la seconda giornata di squalifica al suo posto si diamo per scontato ancora Frucci insieme a Labriola loro domenica hanno fatto molto bene quindi vediamo come risponderanno in settimana ai nostri solleciti valuteremo anche in base all'avversario sicuramente gioca a loro favore la prestazione domenica bene, sempre guardando la classifica sopra la Fermana ci sono molte formazioni e 7 punti con la quinta in classifica la Vispesaro che si trova a 43 che dovrà essere incontrata dalla Fermana a Pesaro però anche se qualche tifoso sogna per il momento è prematuro parlare di qualsiasi obiettivo superiore alla salvezza perché come detto prima bisogna raggiungere quota 43 e vediamo che comunque non è facilissimo fare punti Alberto Scalfini si è costituito una settimana fa e da questa settimana è iniziato il tesseramento la nuova associazione di tifosi solo Fermana un'associazione che non è un club come gli altri che sono già presenti allo stadio del tifo organizzato ma è un'associazione trasversale è stata definita ciò che riguarda tutta la tifoseria e che prende l'eredità praticamente di vecchie organizzazioni che esistevano molti anni fa come lo storico Circolo Canarino esistente sin dal dopoguerra fino all'incirca a metà degli anni 90 e poi alle associazioni di tifosi canarini che esistevano nel periodo del 90-2000 quando la Fermana era in C1 e poi è stata promossa in Serie B che serviva più che altro come coordinamento di tutti i vari club di tifosi però non aveva altri obiettivi invece questa associazione solo Fermana si è costituita con personalità giuridica iscritta all'agenzia entrate partita IVA è una vera e propria associazione che avrà anche lo scopo di raccogliere un po' di fondi e sponsorizzazioni per aiutare la Fermana sia dal punto di vista economico per quello che sarà possibile ma soprattutto quello organizzativo hai spiegato quasi tutto tu almeno per quello che riguarda lo scopo dell'associazione solo Fermana che quindi è un collegamento tra il tessuto cittadino ed extra cittadino e la Fermana Football Club la realtà che in questa città ci sta molto a cuore a tutti noi tifosi lo scopo quindi è ben chiaro è ben chiaro grazie alla pubblicità che si è fatta con gli organi di stampa che ringraziamo e quindi grazie anche alla presentazione che si è fatta alla radio, ai giornali e anche a questa televisione che ringraziamo ancora per la possibilità che ci dà di pubblicizzare questo importante mezzo che è l'associazione solo Fermana per la Fermana Football Club quindi un supporto alla Fermana Football Club adesso però bisogna partire veramente il messaggio è stato lanciato ma bisogna coglierlo e chi è che lo deve coglierlo non 20 persone 30 persone ma tutti aperti a tutti dal primo all'ultimo tifoso e più perché da soli non si va da nessuna parte abbiamo bisogno di tutti a cominciare da domenica anzi dico una cosa Paolo dico subito che domenica ci sono più motivi per venire allo stadio uno l'hanno espresso a chiare lettere i nostri due allenatori cioè vincere perché è una finalissima ed è fondamentale due perché c'è la possibilità di associarsi tramite un sit-in fatto dall'associazione solo Fermana al campo Bruno Orecchioni allo stadio Bruno Orecchioni attraverso la sottoscrizione di moduli di adesione che permetteranno di essere tesserati e quindi integrati all'interno dell'associazione solo Fermana e un altro motivo è perché non so se già questo è stato detto perché domenica nella partita con l'Agnonese saranno presenti i settori giovanili delle società dei dintorni quindi sarà un motivo per essere non in tanti ma in tantissimi fare aggregazione e stare insieme vicini ai nostri campioni canarini questo è molto importante due cose lo dico se mi dai ancora spazio Paolo è che il tesseramento è aperto sempre il tesseramento fatto adesso tramite i moduli di adesione prossimamente anche tramite le tessere che sono quasi pronte permetterà di essere tesserati l'associazione solo Fermana per adesso fino al concludersi della stagione 2014-2015 quindi per un anno e mezzo chi si tesserà adesso entro il 30 di giugno avrà la possibilità anche di votare per il nuovo consiglio direttivo che si costituirà successivamente ed essere votato chiaramente per associarsi la quota è di 20 euro di 10 per gli over 65 e gli under 21 sempre 10 euro per votare occorre chiaramente il pagamento della quota di 20 euro ciò non toglie che è possibile fare donazioni superiore a 20 euro con la possibilità di essere appunto soci benemeriti e questo per quanto riguarda i prezzi delle quote per diventare associati all'associazione solo Fermana e un'altra cosa voglio dire Paolo molto importante per partire oltre a pubblicizzarsi oltre a tesserarsi il più possibile per stare uniti e per essere in tanti per supportare la Fermana Calcio la Fermana Football Club nelle sue esigenze è importante anche per noi avere una sede quindi faccio un appello chi ha un'idea fermo e fuori fermo un'invenzione di un sito un posto che possa essere la nostra base di pertenza per aggregarsi per trovarsi ce lo faccia sapere anche tramite il Fermana Store tramite questa televisione tramite gli organi di stampa perché abbiamo bisogno anche di questo ed è uno dei primi punti delle prime basi per partire e partire bene ok bene quindi tutti i tifosi anche quelli già appartenenti a gruppi del tifo organizzato sono invitati a tesserarsi e far parte di questa organizzazione che avrà soprattutto lo scopo di aiutare la Fermana Calcio attualmente la sede provvisoria è la sede della contrada Molini Girola se non sbaglio offerta generosamente da Renzo Propersi detto il picchio anche lui tifoso e soprattutto anche lui socio fondatore facendo parte di questo direttivo provvisorio dell'associazione poi ovviamente avrà bisogno di una sede come avrà bisogno di una sede presto anche la Fermana Calcio visto che tu hai parlato di sede prendo l'assist per dire che c'è una buona notizia rispetto alla palazzina la famosa anzi direi quasi famigerata ormai palazzina rossa degli ex spogliatoi dello stadio comunale Bruno Recchione di Fermo il comune di Fermo è finalmente entrato in possesso della chiave quindi è entrato all'interno della palazzina è stata cambiata la serratura quindi già è stato fatto un passo avanti questa palazzina è di proprietà del comune il quale ha vinto una causa con il proprietario della Fermana Calcio di due gestioni fa cioè Giacomo Battaglioni e quindi è riuscito a riavere il possesso della palazzina ora c'è un altro passo da fare perché questo edificio all'interno è pieno di attrezzatura ginnica di proprietà appunto della vecchia Fermana quindi di Battaglioni perché era lui l'amministratore unico e la Fermana e il comune non possono rimuoverla di loro iniziativa è necessaria un'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e questo avverrà nel mese di aprile quindi tra un mese circa il comune potrà sgomberare la palazzina poi i necessari tempi per qualche ripristino visto che è chiusa da sette anni poi ci auguriamo che il comune di Fermo dia la palazzina in uso alla Fermana Calcio perché è l'unico scopo a cui può essere destinata visto tra l'altro all'interno dello stadio Bruno Recchioni quindi non vediamo che ci sia non vediamo quale altra possibilità ci sia anche perché la Fermana ha bisogno assolutamente di una sede per gli uffici che attualmente sono letteralmente accampati sotto la tribuna stampa e negli spogliatoi comunque seguiremo questi sviluppi attentamente come abbiamo fatto fino adesso Ministro a proposito di sedie e di impianti un altro grosso problema forse il principale è quello dei campi di allenamento la Fermana ora si allena a volte sull'erba a volte sul sintetico sul duro mi sembra e questo provoca numerosi infortuni tra cui quelli di Vita e di Enrico che sono i più giovani mi sembra la Fermana ha bisogno la Fermana ha bisogno della Palazzina Rosso perché non abbiamo una palestra non abbiamo uno spazio non abbiamo un magazzino abbiamo solo uno stadio come quello di Fermo che ha fatto la Serie B e ospita la Nazionale non ha solo due spogliatoi l'ufficio è grande se no 5 metri quadri ci sono troppe problematiche per cui quella palazzina non vada completamente alla Fermana secondo abbiamo bisogno di un campo di allenamento almeno un campo di allenamento perché allenarci continuamente una volta a capodarco una volta al sintetico alla ferma una volta allo stadio una volta da un'altra parte porta continuamente oltre a problematiche di infortuni problemi di logistica spostare il materiale col pulmino chiedere una cosa un'altra avere un magazzinerio in più anziché magari uno solo e alla fine del campionato queste cose ti portano ad avere 4-5 punti in più o in meno fondamentalmente il problema è questo oltre che allenarsi su dei sintetici in continuazione porta ad avere problemi e noi finora parlando insomma discutendo anche col mister con lo staff tecnico in alcune partite avere un giocatore anziché un altro forse qualche punto in più qualche situazione in più favorevole ce l'avrebbe portato il sintetico allora è valido solo per giocare oppure non è valido questa ricerca visto che tutti ora ricordano il sintetico dipende dalla tipologia di sintetico dipende dalla tipologia di sintetico no dipende da quanto è vecchio da quanto è usurato da quanto è più o meno morbido a volte ci alleniamo su su dei campi che probabilmente non sono proprio adattissimi soprattutto poi perché il Bruno Lecchioni ha un fondo molto molto morbido e a volte diventa a volte sembra di giocare sulla sabbia praticamente infatti solo con con l'arena curia-angolana abbiamo avuto la possibilità di assaggiarlo in maniera un po' più ecco di avere un campo un po' più duro del solito e ci ha permesso probabilmente anche quello di arrivare fino alla fine in dieci in maniera non dico ottimale però insomma è uno stato di una condizione fisica buona una cosa voglio dire voglio dire una cosa proprio a proposito di quello che diceva il mister Matteo Mercuri proprio per supportare queste esigenze che vengono fuori anche da questi appelli degli allenatori è importante desterarsi e stare uniti nell'associazione solo fermana per far sentire ancora più forte la voce per il bene e le esigenze della fermana calcio sono contento che è venuta fuori questa esigenza che ha esposto il mister Matteo Mercuri perché è un motivo in più per stare uniti in tanti ripeto in tanti non in pochi per supportare le esigenze che una società come la fermana calcio con le difficoltà che c'è il calcio oggi ha bisogno assolutamente star vicino in questo a quello che il presidente Maurizio Vecchiola vuol fare per la società è chiaro perché la società non può seguire di persone direttamente tutto quanto quindi questa associazione di tifosi ha lo scopo di sensibilizzare l'amministrazione comunale che è fatta poi di cittadini per risolvere questo problema ricordiamo che attualmente il comune sta lavorando a un progetto importante che è quello di recuperare il centro sportivo ex Polizia di Stato che già è stato per diversi anni a disposizione della fermana dal 2000 fino al 2006 quando la fermana militava in Serie C1 lì ci sono due campi di calcio uno in erba e uno in terra poi c'era una palestra un altro campetto piccolo insomma un minimo di centro sportivo per avere indipendenza e strutture e avere appunto una sede stabile quell'area quella superficie è di proprietà del Ministero dell'Interno che ora ha già iniziato un anno fa esatto cioè a marzo dell'anno scorso il CDA del fondo di assistenza della Polizia di Stato ha iniziato la pratica per ridare di nuovo in gestione al comune di Fermo questa area il comune di Fermo a sua volta lo dovrebbe girare secondo accordi già conclusi alla fermana Caccio che poi dovrebbe investire un po' di soldi per risistemare tutta l'area in questo caso ci saranno due campi a disposizione per poter lavorare tutti i giorni sia per la prima squadra che per la Juniores speriamo che per settembre questo ovviamente avvenga sicuramente il discorso viene fatto almeno per la stagione prossima a prescindere da poi quale sarà il nostro ruolo la fermana comunque ha bisogno di una struttura sua per creare anche un'identità perché comunque sei sempre ospite non riesci mai a trovare continuità nelle attrezzature anche per i tifosi insomma sapere che la fermana il martedì si allena sempre lì il mercoledì si allena sempre lì creare magari anche lì la sede la sede per i tifosi che possono vivere la squadra 24 ore su 24 allora concludiamo parlando rapidamente del prossimo turno ci sono degli sconti diretti abbastanza importanti ad esempio i Serni a Mitternina anche se l'Iserni al penultimo posto è distaccata di due punti dall'angolana che domenica scorsa ha perso in casa con il Fano ma l'Iserni non è approfittato perché a sua volta è stata sconfitta a Metelica comunque uno scontro diretto importante tra due squadre pericolanti e poi c'è Reganatesa e Iesina la Reganatesa in ripresa ha vinto una partita importantissima a Pesaro tre punti d'oro colato in questa fase della stagione contro una Iesina che si trova in posizione di classifica abbastanza tranquilla perché ha due punti in più della fermana e poi c'è Celano e Renato Curi angolana il Celano si trova un punto sotto la fermana e dopo un discreto campionato e dopo 15 risultati utili consecutivi è incappato nella prima sconfitta direi quasi inevitabile visto che giocava in casa con il Termoli che in questo momento sembra la squadra più in forma insieme a Lancona poi c'è il caso Boiano che domenica scorsa per la terza volta non si è presentato in quanto al campo di Boiano da quello che si è saputo si era presentato invece un ispettore della Lega Nazionale Direttanti che pretendeva di riscuotere 27.000 euro dipendenze dalla società e quindi ovviamente il presidente del Boiano non si è presentato e con lui tutta la squadra con la scusa che il pullman si è rotto che si era rotto ma è una scusa abbastanza strana visto che da quello che risulta fino a quel giorno i giocatori si presentavano allo stadio tutti quanti con le proprie auto o accompagnati dai genitori per questo visto che la maggior parte sono tutti quanti minorenni il caso Boiano diciamolo subito non creerebbe problemi nel caso di radiazione radiazione che lo ricordiamo viene dopo la quarta rinuncia quindi vediamo se la settimana prossima o fra due settimane il Boiano rinuncerà per la quarta volta non ne creerà problemi la classifica perché nel caso in cui la radiazione arrivi nel girone di ritorno la classifica resta uguale non si perdono i punti e le partite successive sono tutte quante termineranno tutte quante 0-3 a tavolino come se quando la squadra non si presenta questo è l'articolo 53 delle Neufe invece se la radiazione avviene nel girone di andata la classifica viene azzerata cioè tutti i punti fatti con quella squadra vengono annullati quindi questo non c'è nessun problema e visto che siamo ormai da tempo nel girone di ritorno se il Boiano fra qualche settimana sarà radiato non ci saranno più problemi speriamo solo che riesca a reggere il Boiano fino alla partita con la Fremana così quel giorno magari si potrà fare qualche gol in più del 3-0 a tavolino e oltre che dare soddisfazione ai bomber potrebbe essere utile per la differenza a reti generale visto che la Fremana sta a più 6 e molte altre squadre sono in condizioni migliori oltre al caso Boiano ce ne sono altri due in Italia c'è il Nardò che è stato già radiato il Licata mi sembra che è stato radiato in Sicilia oltre al caso Nocerina anche se quello è un caso completamente diverso in Serie C1 la Lega Nazionale Direttanti dovrebbe stare più attenta agli anni prossimi lo dico a entrambi i mister per evitare che si ripetano case di questo genere che fazzano completamente il campionato sì sicuramente sì però secondo me è un discorso vecchio questo perché ogni anno si dice sempre le stesse cose e poi si ricade sempre sugli stessi errori quindi non so quando finirà questa cosa qui dove la federazione potrà intervenire e deciderà veramente così e così e così io non credo perché ogni anno stiamo sempre a discutere le stesse cose il C1 succede certe cose il C2 succede certe cose e il campionato regionale il C2 succede certe cose quindi non lo so io non sono tanto convinto che possa accadere una cosa del genere e poi tra l'altro ogni anno ci sono sempre richieste discrete garanzie economiche per iscriversi al campionato quindi è davvero strano che un presidente qualcuno paghi fedigliuzione soldi perché comunque l'iscrizione costa e poi dopo qualche mese spariscono i soci eccetera lo abbiamo visto anche sulla pelle nostra perché anche a fermo è successo nel 2011-12 i soci toscani a metà campionato sono spariti e praticamente la fermana è arrivata fino ai playoff con il Tolentino poi inevitabilmente persi soltanto con l'aiuto economico dei tifosi l'anno dopo nuova società con Bocchicchio e Troia che dopo due mesi sono andati via o stati costretti comunque non c'erano più le condizioni per proseguire quindi a fermo ne sappiamo qualcosa e soltanto grazie a questa nuova società del presidente Maurizio Vecchiola si è creata stabilità bene a questo punto non ci resta altro che dire ai tifosi di andare domenica prossima allo stadio a seguire fermana contro l'Olimpia agnonese anche se l'avversario non è un avversario di livello però la partita è importantissima perché se la fermana vincere si porterebbe a quota 39 che poi di fatto sarebbe 42 punti compresa la vittoria purtroppo scontata che ci sarà col Boiano fra un mese quindi significa che se domenica prossima la fermana vince è un match ball per raggiungere praticamente la salvezza a quel punto mancherebbe solo la matematica anche perché Angolana Agnonesia Mitternina insomma e tutte le altre sarebbero ormai distanziate di una differenza di punti che dovrebbe dare abbastanza sicurezza e siamo contenti che la società abbia avuto l'idea di invitare le scuole calcio cosa che doveva essere fatta già forse con l'Angolana e poi evitare magari di lamentarsi che mancava il pubblico quindi è un'iniziativa che dovrebbe riempire lo stadio di giovani tifosi giovanissimi spettatori come è stato con la nazionale la settimana prima Italia-Germania nell'amichevole che abbiamo visto pochi giorni prima della partita con l'Angolana in cui il tifo è stato davvero notevole anche ho sentito lo staff della nazionale e i giocatori azzurri sono rimasti impressionati per il calore che la squadra azzurra ha avuto per l'ennesima volta qui a Fermo bene con questo vi ringraziamo ringraziamo gli ospiti cioè gli allenatori della fermana Fabio Scoponi allenatore principale Matteo Mercuri allenatore in seconda Alberto Maria Scarfini che è uno dei soci fondatori del direttivo provvisorio della nuova associazione solo fermana che eredita le funzioni delle vecchie associazioni di tifosi e qui tra l'altro abbiamo Scarfini che anche lui è figlio dell'ex presidente dell'associazione di tifosi Mario Scarfini quindi è un'eredità proprio in pieno speriamo che anche tuo padre torni presto a far parte della tifosiera organizzata della fermana e con questo vi ringraziamo ringraziamo anche chi ci ha ospitato per la quarta volta cioè pane e caffè Luciani pizzeria caffetteria pausa pranzo in questa sala superiore dove stiamo registrando la trasmissione del salotto Canarino aperitivi sito a fermo in Viale Trieste zona Piazza Sagrini bene grazie a tutti dell'ascolto e ci rivediamo per la prossima puntata del salotto Canarino